Benvenuti, prima edizione di Ora Tg. Apriamo con il Covid in Sicilia perché il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, non esclude l'adozione di ulteriori misure di prevenzione nel contrasto alla nuova variante proveniente dal Sud Africa, sequenziata anche in Europa e in Italia. In Sicilia c'è anche la questione dei migranti provenienti dai paesi africani. Vediamo insieme. La nuova variante della pandemia da Covid-19 è ribattezzata Omicron dopo la Delta, i cui ceppi sono emersi nei paesi africani, in azioni dove il tasso delle vaccinazioni procede a percentuale molto a di sotto degli standard fissati dagli esperti, dimostra ancora una volta come il virus sia in grado di mutare. Le autorità sanitarie e politica del vecchio continente corrono ai ripari e consigliano di attivare controlli più serrati negli aeroporti. Omicron è già stata sequenziata dai biologi in diversi Stati europei, Italia compresa, e adesso si teme una recrudescenza della pandemia. In Sicilia, alle recenti disposizioni degradate dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, su uso della mascherina anche all'aperto e distanziamento sociale, si rafforzano gli accertamenti negli scali aeroportuali per i voli provenienti dall'Africa. Il governatore della Sicilia Musumeci, a margine della consegna di lavori di restauro della Reale Cappella di Santa Venera, non esclude nuovi provvedimenti di concerto con le indicazioni dei virologi. Stiamo in queste ore discutendo con i vertici sanitari e con l'assessore alla sanità sulla opportunità di adottare alcune misure di prevenzione. Naturalmente, per fortuna la variante del Sudafrica non sembra essere particolarmente contagiosa, è veloce e noi dobbiamo essere veloci quanto il virus. I controlli negli aeroporti sono fondamentali e essenziali, ma chi dal Sudafrica fa due o tre scali non è assolutamente intercettabile con una certa facilità. Quindi facciamo leva tutti su un sistema di rete, dall'aeroporto di Milano a quello di Roma, a quelli siciliani di Catania e Palermo, perché si possa intervenire in tempi necessari. Nel frattempo abbiamo anticipato tutti, come sapete, sull'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'aperto, soprattutto nei luoghi di facile assembramento e non finiamo mai di dire che il vaccino è fondamentale. Oggi abbiamo l'81% dei siciliani vaccinati almeno con una dose e la terza dose, per chi già ha compiuto cinque mesi dall'ultima somministrazione, è essenziale per poter dotare il nostro organismo di anticorpi utili a fronteggiare le belleità di questo nuovo virus. La Sicilia ha nel fronte dei migranti in fuga da paesi di origine, in prevalenza Africa e Medio Oriente, una ragione in più di apprezzione. Sui migranti, naturalmente, le misure sono particolarmente rafforzate, lo abbiamo detto alle nostre strutture sanitarie delle province particolarmente esposte al fenomeno migratorio, lo sanno i prefetti. Abbiamo, come ricordate, lo scorso anno indicato al governo centrale la soluzione della nave per la quarantena. Il governo ha accolto questa nostra richiesta. Oggi i migranti in quarantena non stanno sulla terraferma, ma stanno sulla nave e questa è una garanzia per loro e per la comunità che li riceve. E adesso una notizia di cronaca curiosa. Se vogliamo che arriva da Catania, dove gli agenti del commissariato di Borgogna hanno denunciato una 26enne catanese protagonista di un raid punitivo nei confronti di una maestra, della maestra che un anno prima aveva rimproverato in aula il figlioletto. All'epoca la donna aveva detto alla maestra, ora su Gnonginda, ma appena patturiscio i primi coppa su Pittia. Detto fatto. La donna ha atteso in questi giorni la maestra di fuori dalla scuola, alla fine delle elezioni, l'ha attesa, l'ha pestata dinanzi ad altri genitori e altri alunni sconvolti per quanto accaduto. Qualcuno ha avvertito il numero unico di emergenza. Sono arrivati gli agenti del commissariato di Borgogna. La donna nel frattempo aveva finito il pestaggio e ha mostrato al figlio il risultato di quanto ho fatto. Ovviamente la maestra è stata portata in ambulanza nel pronto soccorso di un ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso. La donna invece è stata condotta nel commissariato e denunciata in stato di libertà. Uno tecnico del soccorso alpino e speriologico siciliano è morto per un malore durante un'operazione di soccorso sull'Etna, operazione di soccorso di un escursionista salvato dagli specialisti appunto del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Forti raffiche di vento, gelido, nebbia, temperatura prossima e anche sotto lo zero. Questo è lo scenario in cui ieri il soccorso alpino e speriologico siciliano, nonché il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, hanno operato per salvare un 56enne che, nonostante l'equipaggiamento adeguato per il tipo di escursione, rampone abbigliamento tecnico, si era recato nelle alte sommità, scivolando però all'interno di uno dei canaloni che si affaccia nella Valle del Bove, procurandosi la sospetta frattura di un arto inferiore. Era assieme ad alcuni amici che hanno immediatamente allertato i soccorsi scattati intorno alle ore 15 con tecniche alpinistiche. L'uomo è stato tratto in salvo. Purtroppo, poi, la tragedia, perché un appartenente al soccorso alpino e speleologico siciliano è venuto a mancare. Si chiamava Salvatore Laudani. 47 anni, stroncato da un malore. Faceva parte della squadra che era intervenuta a quota 2300 metri sul versante sud-est dell'Etna, nella zona denominata Schiena dell'Asino. In mezzo alla nebbia, la neve, mista grandine pioggia. E se da un lato le operazioni di soccorso si sono concluse per il ferito verso le 19.30, ora in cui era giunto l'ambulanza, alcune squadre del soccorso alpino, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, erano ancora impegnate nel rientro, procedendo nella bufera e nella completa oscurità. Tra questi, appunto, Salvatore Laudani, residente a Nicolosi, profondo conoscitore del vulcano, che avrebbe accusato un malore tale da impedirgli di proseguire. Intorno all'una meno un quarto della scorsa notte, sulla strada provinciale 92, la squadra è rientrata, recando con sé il tecnico volontario disteso su una barella, trasportata per l'ultimo tratto a bordo di un mezzo fuoristrada. Laudani è stato prontamente affidato alle cure dei sanitari che, però, ne hanno constatato il decesso a luna della notte. Uno 55enne ha ferito con due colpi di coltello alla spalla e al collo alla moglie di 54 anni durante una lite scoppiata in un'abitazione di bel passo. La donna è riuscita a fuggire di casa e a trovare rifugio lì vicino e chiamando così il 112. La vittima è ricoverata adesso al pronto soccorso del policlinico di Catania, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico, non è ritenuta in pericolo di vita. L'uomo, dopo l'aggressione, si è presentato volontariamente ai carabinieri della stazione di bel passo che lo hanno arrestato per tentato omicidio. Morire mentre si attraversa la strada succede a Catania. Lo scorso giovedì una donna di 79 anni è stata arrotata su via Ballo da un'auto il cui conducente si è poi fermato per prestare soccorso. Resta il problema delle strade a scorrimento veloce senza rialzi e dossi. Stava andando a trovare un'amica che abitava di fronte casa sua. Un'azione che faceva spesso l'anziana di 79 anni arrotata e uccisa da un'auto guidata da un uomo che si è fermato a prestare soccorso su via Ballo a Catania giovedì scorso. Un incidente che probabilmente si sarebbe potuto evitare se l'auto che ha travolto l'anziana avesse percorso questa arteria aviaria ad una velocità meno sostenuta. L'assenza infatti di rialzi per attraversamenti pedonali o dossi ha reso nel tempo questa strada del quartiere d'Inesima, come molte altre, insicura dove le auto sfrecciano a tutta velocità e dove raggiungere un marciapiede opposto rappresenta un pericolo per la vita. Strade come trappole mortali, la denuncia del presidente del quarto municipio, Erio Bucetti, stamani sul posto dove i familiari della vittima hanno legato ad un palo dei fiori il ricordo della donna che proprio in questo punto è stata sbalzata per aria sfondando poi il parabrezza dell'auto che l'ha investita. La correttezza e soprattutto la garanzia di una certa e sicura circolazione stradale alla base del vivere giornaliero ecco perché più volte sono stato costretto ad rappresentare una situazione di gravità inerente a un mancato intervento di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ma soprattutto l'assenza di dossi che sappiamo bene essere ancora una specificazione non normata in termini di pacificità nell'installazione da parte della normativa attualmente vigente però è chiaro che il dosso ove esistente spesso e volentieri ha evitato il verificarsi di sinistri mortali. È chiaro che ove l'amministrazione fosse nelle condizioni di poter contare su un maggiore organico in termini di forze dell'ordine anche con l'intervento di altre forze dell'ordine attualmente presenti quali ovviamente carabinieri, forze di polizia ed esercito. È chiaro che un servizio di controllo del territorio è certamente finalizzato ad garantire una maggiore sicurezza per tutti coloro che escono da casa per andare a fare anche semplicemente a piedi la propria spesa e poter fare rientro senza ovviamente correre il rischio di essere tranciati. Da questo punto di vista allora Catania ha delle arterie seppur tanto trafficate poco sicure? Ci sono delle arterie che chiaramente l'assenza di dossi o strisce pedonari rialzate comporta una velocità purtroppo molto elevata da parte di tanti veicoli e ciclomotori. Il posizionamento di autovelox fissi e mobili è certamente da deterrente però è chiaro che ce ne vorrebbero veramente troppi per consentire una certezza ed una maggiore sicurezza per i tratti veicolari incriminati. Ecco perché è necessario porre rimedio, ripeto, con il posizionamento di queste strisce pedonali rialzate. A proposito di strade da Catania ci spostiamo a Giare, rimaniamo sempre in area etnea perché è stata davvero sfiorata la tragedia questa mattina in via Aldomoro, un palo della pubblica illuminazione infatti improvvisamente è caduta a causa del forte vento sfiorando un'autovettura in transito in quel momento appunto sull'Ialdomoro. Tragedia sfiorata stamattina a Giare in una via molto frequentata soprattutto nelle prime ore della mattinata. Un palo della pubblica illuminazione probabilmente a causa del forte vento sulla zona è improvvisamente piombato all'assuolo in maniera perpendicolare rispetto alla sede stradale. La pesante struttura ha letteralmente sfiorato un'auto che transitava in quel momento sfiorandola abbastanza da vicino. Il tutto si è concluso solo con una grande paura per il conducente dell'automobile mentre la strada è rimasta bloccata per qualche ora in attesa che lo stesso palo fosse rimosso e deposto sul marciapiede laterale. L'episodio è certamente inquietante perché la via Aldomoro quasi all'incrocio con la via Brancati è particolarmente frequentata per la presenza in zona di strutture scolastiche ma anche di un grande supermercato. Questa volta è andata bene ma bisognerebbe valutare la situazione complessivamente predisponendo magari un'accurata manutenzione di tutti i pali della pubblica illuminazione sul territorio. L'amministrazione comunale da poco incarica attraverso il vice sindaco Raciti fa sapere che sono in via di definizione gli accurati controlli affinché episodi come quelli di questa mattina si evitano in futuro considerando anche le mutate condizioni meteo che spesso danno luogo a fenomeni improvvisi come il forte vento di questa mattina. Torniamo in cronaca perché di circa 300 mila euro il valore dei beni che la Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato alla cassiera del clan del Rione Mangiolupi già coinvolto nell'operazione Domino quindi processato perché è considerato organico il gruppo criminale. Le Fiamme Gialle hanno svolto una serie di controlli economico patrimoniali estesi al nucleo familiare che avrebbero evidenziato la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati oltre alla provenienza di parte degli stessi quale provento e riempiego dei delitti. Si tratta di un immobile a Messina, un'autovettura, conti correnti, libretti di deposito e risparmio come dicevamo per 300 mila euro. Formalmente assunto prima in un distributore di carburante intestato alla moglie del capo del clan e poi nel tabaccaio riferibile alla stessa famiglia mafiosa, l'esponente era preposto al delicatissimo ruolo di cassiere con disponibilità delle chiavi del locale dove le risorse incontanti erano custodite secondo gli inquirenti proventi del gioco d'azzardo e delle estorsioni. In particolare nel 2014 in occasione di un controllo della finanza fu incaricato dal capo clan di far sparire tutti i documenti dall'ufficio. E a Catani è andata sotto casa della suocera dove abita l'ex marito e ha cominciato a inverie contro l'uomo pronunciando insulti e invitandola a scendere per raggiungerla ma l'uomo ha deciso di chiamare la polizia, i poliziotti e le volanti sono giunti sul posto, hanno trovato la donna che minacciava appunto ancora l'ex marito, peraltro quest'ultimo sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico. Gli agenti hanno identificato la donna che nonostante la presenza appunto della polizia ha continuato a inveire l'uomo già in precedenza aveva denunciato la donna per reati per il reato di atti persecutori ma la stessa ha proseguito e ha proseguito anche nei confronti della polizia che si è stata dunque arrestata per esistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Torniamo anzi rimaniamo a Catania ma cambiamo genere torniamo a parlare della buca di via Trieste ce ne eravamo occupati sabato scorso era stata segnalata da un nostro telespettatore poi era partita una lettera inviata al sindaco da parte del legale oggi la replica dell'assessore alle manutenzioni del comune arcidiacono che ha già attivato le squadre per il ripristino di quanto segnalato. Arriva immediata la risposta alla richiesta di intervento sollecitata dal ristoratore Marcello Santocchini nostro telespettatore che sabato scorso insieme al suo legale Giuseppe Lipera aveva segnalato il cedimento di parte di una botola proprio davanti al suo locale in via Trieste a Catania. A dare garanzie certe di un immediato ripristino è proprio l'assessore alle manutenzioni del comune Pippo Arcidiacono nel pomeriggio sui luoghi per una ricognizione e con le squadre in settimana in piena operatività sul posto attualmente nelle condizioni in cui versa poco sicuro per pedoni e clienti. Iniziativa legale devo dire che fuori luogo anche perché non mi pare sia successo nulla, ho parlato con Santocchini che poi è proprio davanti a lui, ci siamo sentiti ieri, lui non sapeva che ero io l'assessore perché abbiamo un rapporto personale, sai che interveniamo in tutti i casi in cui vi sia urgenza, quella è un'urgenza, lo farò. Quindi questa iniziativa legale mi sembra, ripeto, fuori luogo, tra l'altro non bisogna utilizzare mezzucci per poter, basta parlare con l'amministrazione, risponde in maniera, devo dire, istantanea e loro lo sanno molto bene. Quindi lo dico da queste emittente perché bisogna togliersi il vizio di utilizzare mezzucci per poter richiamare l'attenzione su cose che a volte non hanno grande significato e non parlo dell'ammaloramento della strada che faremo e che farò. Quindi oggi mi vedrò con Santocchini perché so che lui ha potuto fare una lastra di ferro per metterla in sicurezza e quindi provvederemo in settimana a poter sistemare esattamente quel piccolo foro, perché poi si tratta di un foro, non è stata tutta la botola, quindi è una cosa veloce che faremo rapidamente, penso anche domani stesso. Invito la cittadinanza, come ho fatto Santocchini, a interlocuire direttamente con me perché solo in questo modo riusciamo a fare le cose velocemente e da evitare problemi alla città qualora non si sapesse, anche per la sicurezza stessa del cittadino, laddove si può creare qualche problema di salute, quindi senz'altro sì. Santocchini ha messo una lastra in ferro, questa può considerarsi una soluzione tampone o recinterete in attesa di fare l'intervento? C'è comunque il rischio che qualcuno possa farsi male e dunque Santocchini diventerà anche responsabile? Dico che già Santocchini ha provveduto a mettere in sicurezza e di questo lo ringrazio personalmente, ma lo ringrazio l'amministrazione, il sindaco in testa a cui ho raccontato questo episodio, lo ripristinerò brevissimamente, ripeto oggi stesso, al massimo domani. A Catania è stata inaugurata dopo la riqualificazione straordinaria la palestra dell'Istituto Comprensivo Malerba, interventi possibili grazie ai fondi comunitari del patto per Catania oggi il taglio del nastro su via Messina, la presenza del sindaco e di alcuni esponenti della giunta. Il taglio del nastro questa mattina per la rinnovata palestra del plesso di via Messina dell'Istituto Comprensivo Agatino Malerba a Catania, una giornata di festa per alunni, insegnanti e dirigente scolastica che insieme al sindaco, accompagnato dagli assessori arcidiacono Mirabella e Parisi, hanno dato il via alla nuova vita dell'impianto sportivo della zona di Picanello, una struttura riqualificata con fondi comunitari del patto per Catania in appena 120 giorni. Oggi è un giorno molto importante per la Malerba e per il Cutelli, i cui studenti utilizzeranno questa bellissima palestra ristrutturata in tempi record, in 120 giorni, attraverso lo stanziamento di risorse inserite nel patto per Catania, insieme ad altri 22 istituti scolastici che saranno oggetto di interventi manutentivi con 8 milioni e 780 mila euro di risorse stanziate. Le nostre scuole hanno l'assoluta necessità di questi interventi, abbiamo deliberato all'interno della Giunta attraverso la sinergia fra l'assessore Parisi, l'assessore Mirabella e l'assessore Arcidiacono, siamo felici di essere conseguenziali rispetto a una priorità della nostra città. Questa priorità nasce anche dagli ultimi eventi che si sono verificati, come i crolli dei soffitti all'interno di scuole non solo comunali ma anche provinciali. I nostri interventi erano stati già immaginati molto prima di quello che è accaduto qualche mese fa, i nostri istituti scolastici comunali o provinciali hanno l'assoluta necessità di questi interventi, abbiamo programmato ingenti risorse dello Stato, dell'Europa e della Regione all'interno della città metropolitana, stiamo facendo la stessa cosa all'interno del Comune di Catania. Abbiamo oltre 100 plessi. L'inaugurazione di oggi testimonia un impegno dell'amministrazione comunale che non è legato solo agli ultimi eventi che si sono registrati ma è qualcosa che si porta avanti da tempo. Le procedure già un anno fa, grazie all'impegno dell'assessore Parisi sul tema delle politiche comunitarie, dei fondi del patto per Catania, l'impegno del sindaco che quando la città è entrata in dissesto ha dato ovviamente un mandato preciso, quello di non lasciare un centesimo sia alle risorse che mette a disposizione il Governo, la Regione, in questo caso ovviamente la Comunità Europea. Questo è un taglio del naso simbolico che in realtà testimonia quello che già avviene in tantissimi istituti, anche con i fondi per le delizie leggere, il Comune di Catania, l'assessore Cidiacono con la manutenzione. Sono al lavoro da agosto del 2020 con oltre 34 istituti nei quali abbiamo rifatto tetti, cappotti, aule interne, tutta una serie di operazioni che erano davvero lasciate andare da tantissimo tempo ma è solo la punta dell'iceberg. Questa è la prima di tante altre scuole che saranno poi rifiricate e soprattutto saranno messe in sicurezza. Questa fa parte appunto di una delibera portata in giunta il 7 agosto dell'anno scorso che vede appunto la messa in sicurezza di 22 plessi tra scuole e asili. E per dei lavori che si chiudono con la consegna della palestra alla scuola, dei lavori che si aprono e che finiranno tra pochi mesi, da Catania andiamo ad Acireale dove questa mattina il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha consegnato le opere di riqualificazione della Cappella della Reale Cappella Santa Venera in cattedrale appunto ad Acireale. Era presente tra gli altri anche il Vescovo Raspanti. Consegnati stamani nel corso di una cerimonia ufficiale alla ditta incaricata i lavori di restauro degli stucchi e dorature della Reale Cappella di Santa Venera presso la Cattedrale di Acireale. Con un finanziamento regionale di 26.000 euro verranno restituite agli antichi splendori le composizioni artistiche di grande pregio. presenti nel tempietto che ospita le spoglie della venerata patrona della città. Le opere iniziate lo scorso anno con un primo finanziamento di circa 10.000 euro fondi della Cattedrale è stata sistemata la volta esterna mentre con l'analogo aiuto economico disposto dal Comune sono stati restaurati gli affreschi. L'ultimo lotto dei lavori di riqualificazione e restauro della Cappella è stato assicurato dalla regione siciliana. I restauratori dovranno rimuovere le vecchie tinteggiature e le velature di grigiore che nel corso dei decenni si sono depositate sulle decorazioni a sbalzo ricoprendo i colori originali riducendone la luminosità per come l'hanno progettata e realizzata gli antichi artigiani. Anche le durature che adornano le sculture in gesso verranno ripulite con l'impiego di materiale e tecniche di conservazione. Don Mario Fresta, arciprete parroco della Cattedrale, commenta soddisfatto il finanziamento concesso e il via ai lavori. La Cappella di Santa Venera per noi accesi rappresenta non solo un luogo spirituale ma è anche un gioiello d'arte barocca. La Cappella custodisce il simulacro di Santa Venera, il busto reliquiario di Santa Venera. Ogni accese è legato a questo luogo. Inoltre è meta di visita di tanti turisti che proprio contemplando questa arte barocca siciliana possono ammirare il tesoro che noi cittadini di Cireale custodiamo da secoli. Sulla Reale Cappella di Santa Venera di Cireale si è attivata per quanto di competenza anche la sovrintendenza dei beni culturali di Catania che vigila sul delicato restauro il direttore dei lavori e Roberta Carchiolo. Lavorare sugli stucchi è estremamente complesso perché la materia dello stucco è una decorazione interamente a stucco. Anche le statue a tutto tondo sono a stucco. Quella di Santa Tecla, di Santa Rosalia. Quindi è un materiale molto delicato e non ha sicuramente la solidità di una pietra o di un marmo. Siamo abituati in Sicilia perché nel Settecento abbiamo illustri esempi come quelli di Serpotta, gli oratori di Serpotta. Però chiaramente la ditta che è stata scelta per i lavori di restauro è una ditta che usa a lavorare su questo tipo di materiale. Alla consegna delle opere di restauro anche il sindaco di Cireale Stefano Lì, alcuni esponenti della giunta e consiglieri comunali. Noi abbiamo privilegiato la parte interna, adesso con questo intervento della regione sicuramente verrà completato e la cattedrale che già di per sé è magnifica ne avrà sicuramente anche un vantaggio. Poi ringrazio anche Sua Eccellenza che sta operando all'esterno con i lavori del super bonus e quindi anche la parte esterna ne trarrà grande beneficio. Il Vescovo della Diocesi di Cireale, Antonino Respanti, ha voluto sottolineare ancora una volta l'importanza della sinergia tra istituzioni laiche e religiose nella raccolta dei fondi che hanno permesso di avviare i lavori di restauro della Reale Cappella di Santa Venera. La sinergia nasce fin da quando è nata la Cappella tra l'affrancarsi della città nel 600, poi il costituirsi insieme del senato della città con la scelta di Venera e questa chiesa che non era ancora cattedrale. La costruzione che non capisco ancora bene ma dovrebbe essere fatta insieme dalla chiesa e da quello che oggi si chiama comune, dalla città quindi di Acireale. Perciò c'è stata sempre questa stretta sinergia tra potere civile e potere ecclesiastico. Rimaniamo ad Acireale per una breve di cronaca in quanto i carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un'operazione di controllo del territorio minata alla repressione dei reati contro la persona e il patrimonio 69, le persone controllate, 43 gli autoveicoli, due di questi sono stati posti sotto fermo amministrativo per violazione al codice della strada, controllate anche diverse persone sottoposte a misure dell'autorità giudiziaria. L'assessore regionale alla salute Razza ha annunciato stamattina la prossima apertura del pronto soccorso dell'ospedale San Marco, la data è quella del 9 dicembre, confermata nel contempo la campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Un'iniziativa tesa a sensibilizzare la popolazione siciliana sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e sull'importanza di sottoporsi allo screening e quanto avverrà il prossimo primo dicembre in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Lo ha reso noto stamattina l'assessore alla sanità della regione siciliana Ruggero Razza, presentando il programma che sarà attuato attraverso le aziende sanitarie provinciali ospedaliere, ma il rappresentante della giunta regionale di governo ha avuto modo anche di annunciare l'apertura prevista per il prossimo 9 dicembre del pronto soccorso del nuovo ospedale San Marco, che andrà ad arricchire il panorama dei servizi ospedalieri nell'area metropolitana Etternea. Mai abbassare la guardia, ma guai a occuparsi solo di Covid. Quella che abbiamo presentato oggi è una campagna di prevenzione che riguarda soprattutto i più giovani, perché le malattie a trasmissione sessuale in Sicilia hanno un'incidenza molto alta e provano a dover essere contenute dal sistema sanitario della nostra regione. Poi ovviamente abbiamo i problemi di ogni giorno, le attività che devono essere portate avanti, il contrasto al Covid in un momento difficile come quello attuale. Crea coraggio però la risposta dei cittadini con una crescita sostanziale delle terze dosi, con un aumento delle prime dosi e quindi penso ci sia da parte di tutti la voglia di godersi un Natale in famiglia ma in spensieratezza. La preoccupa la variante africana? No, ci occupa, nel senso che stiamo attivando delle misure di prevenzione generale. Queste misure di prevenzione che ha voluto il Presidente della Regione le confronteremo con i nostri organi scientifici e ci predisporremo ad attuare una disposizione che ha due regole essenziali, tamponi molecolari per tutti coloro che provengono dalle aree più a rischio e controlli agli arrivi in Sicilia. Sono le due cose più importanti che possiamo fare. Secondo lei il Super Green Pass può incentivare ulteriormente la vaccinazione? Mi auguro di sì, sembrerebbe di sì, i numeri lo dicono ma ancora di più avrebbe fatto un sano obbligo vaccinale come il Presidente della Regione ha chiesto a gran voce e come si è verificato soltanto per alcune categorie di lavoratori. Per la vaccinazione dei più piccoli? Incontreremo i pediatri, verificheremo quali sono le indicazioni. I cittadini hanno bisogno di essere informati a maggior ragione dei genitori e dei bambini. Io faccio sempre lo stesso invito, di fidarsi della scienza che è la migliore alleata contro una pandemia. In ultimo ha annunciato per il 9 dicembre l'apertura del pronto soccorso del San Marco, il primo ex nuovo in tal senso? Una grande sfida vinta, costruita, un lavoro che va a merito dell'azienda policlinico di Catania e di tutti gli operatori. Quella del San Marco era una sfida, era una cattedrale nel deserto, era un'opera in cui erano stati investiti decini di milioni di euro e il senso comune lo voleva destinato a rimanere incompleto. Oggi invece si conclude con l'apertura del pronto soccorso la piena attività di questa struttura. Cosa migliorerà e cosa aggiungerà? Certamente aggiungerà professionalità, una presenza in un'area particolarmente popolosa della città. Ci aspettiamo che i cittadini però non dimentichino mai che il pronto soccorso è l'ultimo luogo in cui andare e non il primo. La nutrizione adeguata nel periodo di cura del bambino affetto da patologia oncologica, di questo si è parlato nel corso di un convegno, vediamo. Curare e prendersi cura di un bambino affetto da malattia oncologica è la missione di LAD Onlus con l'obiettivo di offrire al piccolo paziente un diversivo che lavorando nella sfera dell'immaginario attraverso l'arte terapia lo possa aiutare a focalizzarsi sulla propria parte sana, stimolando anche la sua creatività. E' scaturita da qui l'idea di creare un'occasione di incontro diretto con uno dei massimi esperti in terapia, il professor Franco Berrino, medico ed epidemiologo, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predictiva dell'Istituto Nazionale Tumore di Milano. Un confronto assai stimolante, dapprima con un nutrito gruppo di medici esperti del settore e poi anche con i genitori, al fine di renderli partecipi del percorso migliore da seguire. E' un tema importantissimo nel quale io mi sono addentrata già tantissimi anni fa, infatti da sempre un po' sono stata presa in giro perché ho creduto che siamo quello che mangiamo, anche ecco, quello che mangiamo. Poi in un momento in cui così delicato come quello della malattia oncologica e soprattutto quando si manifesta nel bambino e quindi c'è bisogno di aiutarlo ad alimentarsi e nel frattempo è un momento in cui non riesce a mangiare, perché sappiamo che le conseguenze della chemioterapia è proprio quella del stare male e allora diventa veramente complicato per un genitore poter dire no a qualcosa che finalmente il bambino riesce a mangiare. Però se questo qualcosa può essere sostituito con un alimento che magari è in realtà funzionale al percorso di cura, perché no? E allora abbiamo bisogno di un esperto che ci aiuti a risolvere queste cose, perché in realtà c'è talmente tanto oggi disponibile che può compensare il gusto con la qualità dell'alimento, è solo una questione di aggiornarci, capire meglio il tema e approfondire. Quindi spero che questo sia soltanto, come dire, un inizio di una collaborazione che possa aiutare tutto il team che ruota intorno al bambino che deve affrontare la malattia, quindi la famiglia esattamente. Un incontro che prevede due step, quello tra i medici e poi anche quello che vede interessato in prima persona i genitori. Sì, esatto, perché è importante proprio un primo momento in cui si possa parlare con termini più tecnici, magari con dei nomi più particolari, poco conosciuti, quindi sarebbe stato estremamente anche pesante da seguire tutto il tempo, mentre invece i medici hanno bisogno ovviamente di approfondire con termini che siano molto più specifici. Per cui, diciamo, è stato concepito in due momenti diversi, in modo che il professore Berrino potrà essere, appunto, come dire, quel tecnico specialista del suo campo con il gruppo dei medici e a seguire i genitori potranno fare delle domande. Lui potrà, con la sua esperienza e devo dire con la sua gentilezza e delicatezza, essere molto più immediato nel modo di aiutarli e supportarli, i genitori, e quindi rivolgersi poi ai bambini con qualcosa che possa essere più gradito, naturalmente. Dopo la pubblicità rientro in studio solo per chiudere il giornale, termina la prima edizione di Oratigil, la prossima questa sera alle 19.45. Grazie per la vostra compagnia, buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni del tempo di domani martedì 30 novembre in Sicilia. Pioggia soprattutto nella zona tirrenica durante le prime ore del mattino, poi in progressivo miglioramento. I venti saranno deboli con locali rinforzi più marcati lungo la costa ionica. I mari mossi o molto mossi il Tirreno e il canale di Sicilia, mossolo ionio. Le temperature, stazionarie o in discesa, possibili nevicate sui nebrodi e al di sotto dei mille metri, pure sull'Etna. Grazie per la visione.